Stefano, Andrea, per questa categoria il pattern è il numero 3, a seguire la premiazione. Vai, metti bene la gamba, galoppo destra Tommy, galoppo destra, gamba sinistra, dai. Vai, bravissimo, metti tutto il giro e metti il palio di là. Chiudi bene, chiudi, chiudi, va bene, piano, vai, follow, bene, girati, via, bravissimo. Chiudi bene, guarda da dove sei arrivato, va bene, metti le mani avanti, vai, vai, avanti, gollo, bravissimo, golder, destra, via, entra nei cerchi di destra, bravo, due grandi, guarda avanti Tommy, va benissimo così. guarda avanti, ora fai il cerchio piccolo, non troppo piccolo, ok. avanti, avanti, guarda me, guarda me, vieni qua, lo metti dritto, prepara, le gambe bene, bravo. guarda avanti, guarda avanti, centro, fai il cerchio piccolo, vai, 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 vai. Dai, dai, dai che va bene, così, guarda avanti, ok, adesso fai il piccolo Tommy, avanti, 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 ok, guardami, guardami, vieni qua, vieni qua, vieni, ok, non chiudere, prepara, e gamba, brava, ok, avanti Tommy, avanti, squadra, ok, non devi stoppare, fai tutto il giro, vai stoppare di lì, dove hai fatto il primo stop, avanti, 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 chiudi bene, chiudi bene, piano, vai avanti, vai, dai, 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 piano, back, back, eh, va bene, stop, 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 metti le mani avanti, metti le mani avanti, così, fai il spin di destra, gamba, gamba, tre, via, via, gamba, tre, bravissimo, bravo, 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 io, siamo Tommaso Procco Cotteggio per Tommaso Procco e Marlo Costana 68 e mezzo